A livello europeo i paesi nordici hanno il doppio della popolazione iscritta in palestra rispetto all'Italia. Se pensiamo alla Svezia abbiamo il 35%, la Germania il 15%, l'Italia l'8%. Siamo ancora indietro, c'è molto da fare. Il nostro obiettivo, quando abbiamo aperto la società in Italia, la nostra ambizione è quella di aumentare di un punto percentuale, dall'8% al 9% tramite l'espansione e l'acquisizione di nuovi abbonati.